dopo tanto tempo finalmente ci sono arrivati due nuovi zefiro roller team modelli 2025 se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così li possiamo vedere insieme e rimanete sempre aggiornati quando facciamo nuovi video io sono alessandro gira gira camper vi lascio subito i miei contatti alessandro chioccio alla gira gira punto it per quanto riguarda la mail 335 1768 460 per quanto riguarda il cellulare se vi piace qualcuno dei nostri veicoli che vedete sul sito non esitate a contattarmi partiamo subito dal più grande zefiro 287 tl modello 2025 base meccanica fiat ducato 140 cavalli cambio manuale 7 metri 45 di veicolo nuovo paraurti fiat con logo roller team fari fendinebbia versione dotata di tanti accessori di serie quindi cerchi in lega chiusura centralizzata porta ingresso zanzariera sulla porta ingresso pattumiera e finestra oscurabile nuova porta ingresso come forma guardate che bella che è tendalino nero con luce esterna di serie attacco esterno del gas eccolo qua e se lo vediamo subito nel suo splendore del garage troviamo un vano di carico dalle dimensioni davvero considerevoli con novità assoluta di quest'anno la possibilità di accedere dall'interno del veicolo al gavone prese esterna della 220 volt nel gavone attacco esterno dell'acqua e rete illuminazione davvero un'offerta al top parete posteriore totalmente ridisegnata guardate che bella sopra si vede la retrocamera la nuova parte superiore in abs nuovo paraurti con luce a led davvero di design questo prodotto mio giudizio cerchi in lega li ho già detti non mi ricordo nel caso sono di serie andiamo su nuovi colori nuove disposizioni nuove cucine partiamo subito dalla cucina cucina due fuochi intelligente perché a questo ci permette di posizionare delle pentole un po più grandi senza che si diano fastidio l'una con l'altra copre il lavello e lavello cucina molto interessante perché va tutto a filo del piano cucina quindi molto bello predisposizione per poter alloggiare una macchinata del caffè al di sopra della quale troviamo le prese 220 quindi ne abbiamo due dove possiamo appunto andare a collegarle base fiat ducato oramai più che conosciuta il nuovo ducato internamente cambiato molto poco solamente il logo praticamente del clacson sul volante logo fiat voglio dirvi radio doppio din apple carplay android auto con retrocamera integrata oscuranti settati in cabina maxi oblo sopra la dinette dinette con sedili anteriori girevoli face to face quindi quattro posti omologati il tavolo si può movimentare destra sinistra davanti dietro e si può anche sdoppiare ribaltabile per aumentarne la capacità di carico letto basculante elettrico nuovo letto basculante con delle forme differenti che su questo modello permettono di lasciare la porta parzialmente libera quando viene utilizzato ci sono due comodi pensili al di sotto dei letti del letto basculante e un pensile sopra la cucina novità assoluta 2025 è l'adozione di questo frigorifero che è un frigorifero a compressore quindi doppia porta intelligente sotto un freezer sopra un frigorifero e funziona appunto a 12 volte parte superiore con la l'alloggio per quello che volete voi eventualmente anche un forno microonde si può installare zona posteriore che ha la caratteristica di aver la porta del bagno che può chiudersi per separare gli ambienti così come volendo si può creare un corridoio perché qui c'è un'ulteriore porta scorrevole questa quasi scorre su questo binario e va a separare la zona notte e permette di creare proprio tutto il corridoio bagno molto ampio la doccia ben congeniale retroilluminata c'è una barra penderia c'è anche un faretto touch e un oblò per quanto riguarda i vapori il bagno appunto andiamo a separare la porta dalla zona giorno a zona notte a vici ruotabile un nuovo piano per quanto riguarda il lavandino un pensile lo specchio e l'oblò a tetto molto ampio devo dire i letti gemelli sono i classici oramai più che conosciuti più che descritti doppio con in dotazione anche il materasso da poter raggiungere nella parte centrale se volete creare i tre letti comodi gli armadi sono al di sotto dei letti hanno delle dimensioni notevoli a mio giudizio sia dal lato destro che dal lato sinistro e sono volendo accessibili anche alzando le reti troviamo anche dei comodi cassetti 1 1 2 eppure questo gradino apribile estivabile questo è l'accesso al garage di cui vi parlavo poco fa sicuramente è una pianta molto richiesta perché i letti gemelli stanno andando alla grande quest'anno offrono spazio e comodità contemporanea vanno bene sia per la coppia sia per la famiglia perché appunto unendo i due letti gemelli si può ottenere un matrimoniale dalle dimensioni davvero gigantesche l'offerta comprende anche una doppia finestra su entrambi i lati più la fila di pensili posteriori con anche le luci orientabili a led che hanno delle usb questo come vi dicevo un quattro posti omologati praticamente full option c'è anche il pannello solare da 200 watt che è una novità di quest'anno l'hanno potenziato rispetto alla stagione precedente è un prodotto che in strada costa 76.700 euro andiamo a vedere l'altro perché sta diventando buio e ci terrei a farlo vedere con ancora un po di luce che abbiamo per fortuna da sfruttare quindi zephyro 295 tl advance veicolo su base ford in questo caso noi l'abbiamo scelto con l'optional del pack design che comprende la cabina ford metallizzata e i cerchi in lega altrimenti arriverebbe col cerchio in ferro e la cabina bianca è un cambio automatico 165 cavalli nuovo ford le differenze sono minime esternamente parlando hanno cambiato i cerchi hanno cambiato il logo frontale anche qui abbiamo l'attacco esterno del gas cassetta wc e un garage dalle dimensioni ancora più grosse del precedente quindi davvero spazio in abbondanza caratteristica del 295 è quella di avere il letto che è regolabile in altezza elettricamente quindi lavora su questi pistoni che salgono e si abbassano per appunto andare a utilizzare l'altezza che ci serve all'interno del garage per caricare le nostre cose il tutto comandato comodamente da questo interruttore attacco esterno dell'acqua presa 220 retroilluminato anche qui troviamo l'accesso dall'interno del veicolo al garage parete posteriore che è identica a quella precedente purtroppo è parcheggiato molto vicino al veicolo dietro di lui quindi riesco a incontrarvelo parzialmente comunque sia retrocamera lì veranda anche in questo caso dotazione standard luce esterna dotazione standard portacellula come la precedente quindi un patumiera zanzariera finestra oscurabile chiusura centralizzata cosa cambia dentro cambia anzitutto il fatto che qui siamo su un 6,99 quindi veicolo più compatto 5 posti omologati perché non è un face to face ma è una semi di net che vediamo subito quindi qua così abbiamo due posti fronte marcia e un posto contro marcia che si ricava su quella seduta lì oltre ai due frontali ovviamente cabina forte con nuova radio enorme come dimensioni cambio automatico a rotella nuovo cruscotto digitale da 8 pollici oscuranti plissettati anche in questo caso e oblò panoramico anche in questo caso letto basculante pressoché identico al precedente quindi nuovo letto con delle dimensioni ridotte perché i veicoli 2025 per quanto riguarda la gamma roller team zefiro nello specifico sono veicoli più bassi rispetto a quelli del 2024 hanno un'altezza esterna di 2,85 metri quindi è più agevole più maneggevole anche da portare questo è stato possibile tramite l'adozione di un letto basculante di dimensioni ridotte che ha permesso appunto di abbassare esternamente il veicolo senza andare a inficiare nell'altezza interna del prodotto in questo caso quando utilizziamo il letto basculante la porta è praticamente tutta libera quindi ancora di più rispetto al precedente modello presa della 220 predisposizione della tv che va messa qua così a sinistra dell'ingresso blocco cucina identico al precedente con non ve l'ho fatto vedere prima ve lo mostro ora un cassettone che include un cassetto porta posate e sotto un altro cassettone un po più piccolo di dimensioni rispetto al precedente perché nella parte posteriore troviamo l'impiantistica del prodotto frigorifero compressore come nel precedente e vano di stivaggio per un eventuale forno microonde come abbiamo detto sull'altro modello l'armadio in questo caso un armadio verticale posizionato a fianco al frigorifero prima del letto posteriore che offre sicuramente delle ottime dimensioni di carico al di sotto del quale troviamo un secondo stivaggio ben congeniale questo è l'accesso al garage che vi dicevo che rispetto al 287 è un po più piccolino come dimensione però comunque permette di prendere le cose che sono vicino a noi letto posteriore matrimoniale trasversale con questa parte in legno che sale e scende in base all'altezza che andiamo a regolare elettricamente finestra lato guida fila di pensili oblò e anche qui troviamo i faretti orientabili comprese usb le pareti posteriori dei nuovi zefiro sono internamente state abbellite con delle colorazioni delle tappezzerie molto rilevanti secondo me il bagno in questo caso essendo un 6,99 è un bagno un pochettino più piccolo nel senso che offre comunque un'abitabilità enorme la doccia risulta separata ma all'interno dello stesso ambiente bagno con la porta rigida in plexiglass retroilluminata anche qui barrappenderia faretto oblò pensile specchio e mobile lavello interessante questo è un prodotto cambio automatico 2025 che ha un prezzo di listino di 76.600 euro quindi ci sono 100 euro di differenza fra uno e l'altro prodotto questo un ford cambio automatico 165 cavalli l'altro un fiat cambio manuale 140 cavalli come sapete fiat è sempre costata di più quindi questo allineamento di prezzo è dettato dal fatto che ford ha un'offerta importante dando un motore più potente e un cambio automatico di serie su questa gamma mi raccomando un bel like al video io sono alessandro 335 17 68 460 quando guardate i miei video che magari siete su un bellissimo roller team zephyro 295 tl advance o 287 tl potete ricaricare i vostri device tramite le prese usb che sono sparse su tutto il veicolo vi aspetto al prossimo video ciao a tutti